A presto Basterebbe una carezza Per un cuore di ragazza Forse ora si E tamere Sì, dobbiamo fare questo, giù? Sì, questa è una... Ma che foto fa prima del pezzo di Giuseppe? Ma Giuseppe è d'accordo su questa... Giuseppe? Ma certo è d'accordo, guarda lui non dice niente! Ma proprio niente! Ma niente! Ma che foto fa? Ma che foto fa? Ma che foto fa? Ma che foto fa? Ma che foto fa?